Entro i fondi, tante occasioni da gol, sentite una sola marcatura, un solo errore difensivo e un gol subito. Oggi avete praticamente capitalizzato al massimo la produzione di gioco che è stata l'unica continua sullo scopo di tutta la partita e dietro ci sono stati presenti impeccati concedendo quello che è fisiologico concedere a una scuola forte con il legge. Sì, hai detto bene. Siamo stati aggressivi subito sulle prime palle, su ogni palla, cattivi, attacca gli spazi, profondità. Quindi questo sia il fatto che il Lecce, secondo me, si sia un po' spaventato del Catania. Catania che era su tutti i palloni, come dicevo, ma tutti, proprio tutti. E questa è stata una cosa importante, aver iniziato così. Prima giornata, Giovanni Marchese nei tre centrali, seconda giornata parte dalla panchina, oggi giochi quinto a sinistra. Cos'è cambiato? Anche una condizione forse che sta migliorando e se questa posizione di questa sera può essere lo sviluppo della tua stagione? Sono due ruoli che ho sempre fatto, sia a tre che a cinque. Come quinto giocavo quando stavamo in Serie A con Montella, con i tre, giocavo sempre a tre a Genova, facendolo veramente bene. Quindi sono due ruoli che a me piacciono entrambi, sia uno che l'altro. Dove il mister vuole che gioco, io mi metto a disposizione come giusto che sia. Qualche sassolino alla scarpa stasera, lo vuoi togliere? Qualche critica di troppo che ha accompagnato? Sono superiore a tutto, ho le spalle grosse, non ci sono problemi. Grazie. Buonasera Marchese, ci lo siamo gli istituti, era un tiro o un cross? Inizialmente avevo pensato di tirare, perché comunque la palla era perfetta, era deliziosa, le palle di Cicce le conosciamo tutti. Poi essendo che ero un po' defilato, mi sembravo, avevo pensato di metterla forte in mezzo tra il portiere e l'attaccante, tra il dischetto e il portiere. Poi l'ho presa un po' un po' male e mi si è alzata, è meglio così. La mia domanda era stata già a Alessandro, comunque volevo farti complimenti. Grazie. Hai parlato un po' anche con il palco dell'Inter? Con l'Inter? Di test, no di test, con il Novara è stato. Con il Novara è stato, ma diciamo che queste palle così mi piacciono quando Ciccio me le mette così. Si, si, ci conosciamo, io Ciccio basta uno sguardo che ci intendiamo, ma comunque tanti anni che giochiamo insieme sappiamo, io so lui cosa mi può dare a me, lui sa cosa posso dare a lui, in senso come passo, lui sa che passo che c'è, quindi ci capiamo, ma è meglio così. Euro-gold, quando è l'Italia? Vabbè, mia moglie e mio figlio che erano lì e mio papà e mia mamma, ma principalmente mia moglie e mio figlio. Amin.